Metti due amiche, accomunate da una forte passione per la lettura e dalla voglia di trasmetterla ai più piccoli. Aggiungi poi il sostegno fornito dalla diocesi alla quale appartengono, in questo caso Ragusa, capace di varare iniziative legate al microcredito per l'avvio di un'impresa. E' così che nasce Nasi In Su, libreria aperta di recente nel cuore del capologo Ibleo, con una mission che non è quella esclusiva di un'attività commerciale, come spiega Cristina. Il libro è fonte di relazione tra i figli e i genitori, quindi tutto questo rientra in un'ottica sicuramente più ampia di un semplice negozio, ma ecco proprio un luogo di incontro, un luogo di crescita per tutta la città. E Valeria riassume così i principi che hanno ispirato l'iniziativa. Nasce fondamentalmente da tre cose, da una consapevolezza, da un amore e da un desiderio. La consapevolezza della importanza della lettura, del suo valore inestimabile, del fatto che la lettura non è un'attività che viene iniziata in maniera spontanea dai bambini, ma che ha bisogno di essere stimolata. Dall'amore infinito che sia io che Cristina abbiamo per la lettura, per i libri, ma anche per il mondo dell'infanzia e per i bambini, e dall'amore per i libri per i bambini nello specifico, e dal desiderio di condividere questo amore e questa consapevolezza con questa città. L'apertura di Nasinzu per noi era un sogno, un sogno che però si è potuto concretizzare con l'aiuto fondamentale e indispensabile di questo progetto del microcredito, che è stato promosso dalla Diocesi di Ragusa, insieme alla Diocesi di Noto e alla Camera di Commercio di Ragusa. In questo momento di grande difficoltà e di grande crisi, sostenere con la possibilità di un microcredito la volontà e la progettualità dei ragazzi credo che sia realmente un modo come rispondere in maniera intelligente alle esigenze di oggi.